Proseguono i lavori infrastrutturali lungo la linea della metropolitana anche questa sera dopo le 21 bus navetta al posto dei treni lungo l'intera tratta Anagnina Battistini. Eventi in città da venerdì a domenica, la festa del cioccolato artigianale in piazza Risorgimento. Dalle 9 di venerdì mattina verranno spostati i capolinea delle linee 19 nav 32 81 e 590. In particolare le linee 19 nav e 81 fermeranno al lato della piazza dalla parte di Porta Angelica, mentre le linee 32 e 590 faranno capolinea in aviale Giulio Cesare 10 metri prima di Via Silla.